...serie C1 al palazzetto dello sport di Canicati, una partita importantissima per l'Atletic visto la recente sconfitta. In campionato, ai campi del sole, leggiamo i convocati. Abbiamo soltanto il fischio che arriva proprio adesso, quindi si comincia col possesso dell'Atletic, una partita come abbiamo detto poc'anzi... Tuzzolino, servito Tuzzolino, insiste sulla fascia, pensa alla conclusione e trova la rete dell'1-0, vantaggio Atletic Club, un grandissimo gol di Tuzzolino. Tuzzolino scambia con Tappita, speso, possesso ancora Canicati, prova a passare contro 2, but Tappita! Arriverà il doppio, dell'Atletic Club Palermo segna Marco Tappita! Un inizio perfetto dell'Atletic, 2 a... Tuzzolino, apertura, restivo, pallone in mezzo per Tappita, fa la sponda, ancora per restivo, sempre per Tappita, pallone deviato, poi riconquistato da Tuzzolino. Allora Nilmar, bellissimo l'1-2, Nilmar per Tappita, poi Tuzzolino rientra col mancino! La risposta del portiere! Spedire esce con i guantoni d'alba, il pallone deviato al proprio sesso Canicati, prova e il numero rientra! Il salvataggio di Antonino d'alba a spedire il pallone in calcio d'angolo! Si gira di cara col fisico, protegge! Lo stesso Atletico, Kuber, Giuliano, scambia la conclusione di Nilmar! Cori di popolo! Nilmar, Kuber, di cara! Nilmar Ancora Nilmar Un gioiello Quello di Nilmar che segna il gol del 3 a 0 per l'Atletic Gran gol Calle è chiaro Tuve Servito di cara Ancora lui, sempre di cara Tuve è la risposta del portiere E rimessa laterale Potrebbe andare alla conclusione Tuve Tuve, prova col destro Riesce fuori Teman Sticca qui 7 minuti al termine del primo tempo di ciocco Lancio lungo Deviazione di testa Grande risposta della Piano Il primo tempo di ciocco Possesso Canicca T Tiene la sfera Conclusione la risposta Bianconino d'Alba In calcio d'angolo Tuzzolino rientra Prova col mancino Serve Il travaia che segna Il gol del 4 a 0 Per l'Atletic È deviato Si gira da vita Serve Nilmar Mangalto Giuliano Si gira Giuliano Col destro Segna il capitano Giuliano Il gol del 5 a 0 Per l'Atletic Continua il possesso Intanto del Canicca T Dopo la rimessa ancora Tuve Decisivo Ballone Deviato Senza fallo Usciva la testa Per la difesa Ballone in mezzo Il gol del Canicca T 5 a 1 Si appoggia Verso Nilmar Nilmar Pensa al mancino Lo prova Sopra la traversa Tuzzolino Cerca i movimenti Ancora Tuzzolino Accompagna Verso Tuve Si abbassa Nilmar Ancora Tuzzolino Non provato Nilmar Allora ripartenza Per i Canicca T Prova a coordinarsi Il tacco Verso La vita possibile Ripartenza Tuzzolino Col mancino Un gioiello Quello di Tuzzolino Che vale il gol del 6 a 1 Per l'Atletic Calcio d'angolo Tuzzolino Conclusione Al volo Di Restivo Mamma Capita Non basta Allora contro Per il Canicca T Conclusione Finisce in porta 6 a 2 Segna Il Canicca T Nilmar Temporeccia Non trova in Tavaglia Viene superato in Tavaglia Conclusione la risposta di Talba Dice Nino Lo stesso Canicca T Pallone deviato Allora Vallecchia In contropiere Vallecchia Vallecchia Segna lui Segna Vallecchia Il gol del 7 a 2 Di nuovo sopra di 5 Quell'Atletic Nilmar 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 L'inserimento di Restivo Pallone E mezzo squisito Mette per Restivo Bellissimo L'1-2 Ottasione colossale Meravigliosa Gestisce la sfera Brancato Col mancino Una grandissima rete di Brancato 7 a 3 Prova la conclusione Deviata dalla barriera di Giuliano Si fa male al braccio Calcio d'angolo Pallone perso contro Piede ancora Nilmar Contro 2 Non scappa via Quindi è tiro libero Sesto pallo commesso Da ora in poi Sono solo tiri liberi Per il Canicattino Pronto Brancato Lo prova Entra in porta Nonostante la deviazione di Dalva 7 a 4 Vabbè Vabbè Poi per Tuzzolino Prova la lacrarsi pallone Perso contro bene Canicattino 7 a 5 Clamoroso Arriva Quasi Tuzzolino Adesso difesa Leggermente scoperta Arriva Tube Ma non basta poi Tuzzolino Grande risposta Messa laterale Bene verso la metà campo Foti Ancora Foti Arriva Nilmar Possibile ripartenza Nilmar 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 Che gol Di Mancino Che vale il gol Dell'8 a 5 Per l'Atletic Gole ma è ancora lunga Sesso Canicattino Contro due Non arriva il contrasto Quindi si può continuare Pallone in mezzo Il miracolo E poi pallone Sprecato Lavoroso Lavoroso Donale per la vita Non arriva a destinazione Con i ripartenza Prova di stendersi Brancato Tiro libero Batte Brancato La risposta Di Dalva Tiene a galla L'Atletic Si col fisico Col tacco Verso il compagno Arriva pian piano Il pressing Dell'Atletic Anche in attacco Qui Brancato Brancato La mano Ancora di Dalva Tiro deviato Poi Nilmar Contro per le tunnel Nilmar 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 stesso Calcio di rigore Probabilmente espulsione Cominci Tuzzolino Nilmar Tuzzolino Col mancino 9 a 5 Per l'Atletic Segna Tuzzolino Grandissima partita Di Tuzzolino Quindi finisce La partita Sul fischio finale Vince l'Atletic 9 a 5 Ringraziamo tutti gli spettatori Per averci seguito E ci vediamo al prossimo appuntamento Dell'Atletic Grazie a tutti carbunce Grazie a tutti Grazie a tutti